Piove, grandina, fortissimo. Vedete l'asfalto si sta imbiancando e le pecore sono lì in mezzo ai cespugli, in mezzo all'erba, a continuare il loro lavoro di pulizia, a mangiare anche loro con la schiena imbiancata. Dito da pecore e da pastori, d'arco e rocco, come sono? Amori, eccoli lì, tutti imbiancati anche loro. Speriamo sia solo di passaggio, anche perché altrimenti le pecore con questa pioggia mangeranno meno e non riusciremo a fare la pulizia che voglio. E poi, poverine, sotto la pioggia, gli agnellini sotto la pancia delle mamme a ripararsi. Guardate come corre l'acqua. C'è stato un tuono fortissimo, d'arco si è spaventato e si è infilato con me sotto l'ombrello. Fa veramente freddo, anche le pecore si sono fermate e tutti aspettiamo che passi. Qualcuno in un video precedente mi ha scritto come faccio a pulire le strade con aria di critica. Bene, questa è la risposta. Aspetto che piova e va via tutto, anche perché qua piove sempre, da tutta l'estate, estate compresa.